Ciao, siamo Vale e Orly. Oggi vi faccio le chiacchiere a modo mio. Ingredienti per le chiacchiere. 500 g di farina doppio zero, 4 uova di cui 3 intere e un rosso, 50 g di burro, 70 g di zucchero che ho vanigliato con una bacca usata, 1 litro di olio di semi di arachidi, 30 ml di grappa, un pizzico di sale, 8 g di lievito per dolci, zucchero a velo per la finitura. Inizio la preparazione delle chiacchiere, unisco il lievito alla farina e setacciamo il tutto. La farina setacciata l'ho messa nel frullatore, aggiungo il sale, un pizzico di sale, lo zucchero, togliamo la bacca, le uova, facciamo andare mezzo giro, ho fatto girare un paio di minuti, ora aggiungo la grappa e il burro che ho tagliato a dadini e adesso facciamo andare ancora un po'. E' pronta, ora la togliamo. Ho messo un po' di farina sotto al piano lavoro, la lavoro a mano un attimino e la mettiamo in una pellicola e la mettiamo 30 minuti in frigo. E' passata mezz'ora, inizio a tirare la sfoglia, ne taglio metà per volta. Ho tirato la metà sfoglia, ora inizio a tagliare le chiacchiere. Pareggiamo un attimino. Io le faccio come me le faceva mia mamma quando eravamo bambini. Prepariamo tutti su un vassoio e poi le friggiamo. La sfoglia l'ho tirata due millimetri circa di altezza. Tiro anche l'altra metà della sfoglia. Io le chiacchiere le faccio irregolari. Come faceva mia mamma, chi la vuole piccola la prende piccola, chi la vuole un po' più grossa la prende un po' più grossa. Siccome noi eravamo in tanti, e così si doveva fare. Questi sono i dolci del periodo di carnevale. Inizio a friggere. L'olio è a temperatura. Le mettiamo dentro poche per volta. Quando sono dorate da una parte, le giriamo e le facciamo dorare dall'altra. Le togliamo. E proseguiamo. Si stanno gonfiando bene. Scoliamo bene dall'olio. Man mano che le frigo, gli metto un pochino di zucchero a velo sopra. Da tutti e due i lati. Queste sono le chiacchiere fatte a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciute le chiacchiere? Se vi sono piaciute, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.